Definire il ruolo dell'Europa in Afghanistan è questo il principale tema discusso alla riunione informale dei ministri europei della difesa che si sono incontrati in queste ore in Slovenia. I leader intendono delineare con precisione le ambizioni europee in materia di sicurezza e difesa per i prossimi 5 o 10 anni. Riportando così al centro del dibattito il tema della difesa comune europea. Penso che al momento questo dibattito sia prematuro l'Europa infatti non ha ancora né la volontà politica né la capacità reale di costruire un suo sistema di difesa autonomo. Penso in particolare al trasporto aereo, alla sorveglianza, all'intelligence, ai sistemi logistici senza dimenticare il livello di protezione che serve alle forze armate per svolgere un lavoro come quello che stava svolgendo l'esercito statunitense in Afghanistan. Per avere un'idea di quanto sia verosimile una politica comune sotto l'aspetto della difesa, bisogna guardare alla Germania, finora molto restia a cambiare lo status quo. Se i tedeschi dovessero iniziare a mostrarsi interessati a rischiare di più, a mettere soldi e risorse nella difesa comune, allora tutto potrebbe cambiare. L'analista ricorda poi diversi fallimenti europei nel costruire una difesa comune in Libia e nel Sahel. Si può parlare all'infinito di buoni propositi, ma è in Sahel che si vedranno i fatti. Se gli europei non saranno in grado di trovare una strategia militare comune in Africa per pacificare la regione, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche, esattamente come in Afghanistan. Quando la Francia si ritirerà dal Sahel, come ha già annunciato a giugno, diversi paesi dell'area cadranno nelle mani dei gruppi criminali e terroristici e questo potrebbe dar luogo ad uno scenario problematico molto vicino all'Europa. Per l'esperto tra i molti motivi di dissenso ci sarebbero anche i timori di vedere l'industria della difesa di alcuni stati membri prevalere sulle altre.